Sabato 27 ottobre a San Costanzo è stato inaugurato il nuovo punto IAT, informazione accoglienza turistica. La cerimonia a svoltarsi nella sala del Consiglio Comunale ha visto la partecipazione del sindaco Margherita Pedinelli, del presidente della provincia Matteo Ricci, dell'assessore provinciale al turismo Renato Claudio Minardi e del presidente dell'assemblea legislativa delle Marche Vittoriano Solazzi. Il nuovo punto IAT, ha detto il sindaco, non è solo una vetrina espositiva di eccellenza del nostro territorio ma un luogo aperto a tutti, cittadini e turisti, dove incontrarsi, informarsi e fare accoglienza. Lo IAT ha dato e darà sviluppo all'economia locale a partire dai lavori di ristrutturazione eseguiti anch'essi da ditte locali che hanno potuto recuperare un bene della collettività ora affidato in gestione alla Proloco. Una ricchezza, quella del punto IAT, che va valorizzata e nella quale coinvolgere i giovani per poter dare sempre maggior valore all'accoglienza e l'amore per il territorio. Il presidente Solazzi nel suo intervento ha sottolineato come ogni borgo del nostro territorio è uno scrigno di bellezza e tali bellezze diventano opportunità di sviluppo per uscire dalla crisi. Occorre puntare sulla tutela dell'ambiente e sul turismo, settori questi che hanno ancora possibilità di sviluppo, per questo vanno valorizzati e su questi va investito.